La consulenza Pnei System è una consulenza davvero completa, si può dire che raggruppa una serie di interventi terapeutici. Che cosa intendo dire? Che oltre alla prescrizione e come sai partiamo dalla medicina convenzionale accademica che utilizziamo solo quando necessario e naturalmente utilizziamo in modo ottimale altri tipi di attivi naturali quindi i fitogemmoterapici oppure la low dose medicine oppure la medicina omotossicologica oppure alcuni supplementi e nutraceutici ben scelti per stilare un piano terapeutico davvero completo nella sua essenzialità a questo noi affianchiamo un'indicazione nutrizionale è importantissimo per il paziente sapere come deve alimentarsi in funzione del quadro clinico che presenta fondamentale l'attività fisica ho appena adesso concluso una consulenza online che mi ha portato ad elencare i vantaggi clinici dell'attività fisica intesa in senso Pnei secondo i protocolli che sono stati messi a punto dai nostri fisioterapisti, dai nostri osteopati, quelli che hanno una formazione Pnei e infine i nostri pazienti ricevono delle semplici tecniche di gestione dello stress semplicissimo quindi non richiedono più di 4-5 minuti al giorno che completano l'intera terapia ecco perché il nostro modello di cura è fantastico, è il più completo in assoluto mai concepito ad oggi ed è quello che può restituire ai nostri pazienti nell'epoca della complessità anche delle malattie purtroppo una salute e un benessere totale e duraturo grazie a tutti